te che sei uno storico questa pesciaiola mi dispiace di offendere questi negozianti ma io non posso vedere in Parlamento gente simile cioè di un'ignoranza di tale livello che non ha mai letto con ogni evidenza un libro in vita sua e che poi possa questa gente rivolgersi da pari a pari a un nome Mario Draghi datemi dei termini una rana dalla bocca larga cosa devo dire cosa devo dire per stigmatizzare il livello di ignoranza e di presunzioni io sono il compagno di Giorgia Meloni e Giorgia Meloni è anche la mia compagna ma la madre di mia figlia e si dà il caso che io sia molto fiero di quello che ha fatto Giorgia Meloni nella sua vita quindi non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci saranno altri luoghi dove verranno commentate e sentenziate determinati termini mi permetto semplicemente di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze e che io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita io mi auguro professore ammesso che lei abbia dei figli che i suoi di figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini e indegni e vergognosi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.